Sabato e domenica avremo nella nostra cittadina farnese un importantissimo evento. Ci saranno delle qualificazioni per il campionato di scherma storica 2023-2024. Siamo stati felicissimi di questa richiesta e saranno tanti gli atleti che ovviamente parteciperanno. Dicevamo non solo sport ma anche una promozione turistica del nostro borgo perché i tanti atleti, le famiglie e i tanti appassionati sicuramente approfitteranno delle visite guidate di questi giorni per conoscere ovviamente i nostri tesori. La scherma storica, sebbene possa sembrare somigliante alla scherma contemporanea, innanzitutto parte dallo studio dei trattati di scherma storica del XV-XVI secolo. Quindi è una ricostruzione di come effettivamente veniva praticata questa disciplina in Italia. Quello che cambia sono soprattutto le armi, in quanto le armi che utilizziamo noi sono delle spade da lato rinascimentali, delle spade a due mani, da sole o accompagnate da armi protettive che possono essere un brocchiero, che è uno scudo un po' piccolino, una rotella, uno scudo più grande, oppure un pugnale. Allora, noi siamo presenti qui in Abruzzo con tre sedi, una all'Aquila, una a Teramo e una a Pescara. E quindi, cercando semplicemente Achille Marozzo, si può accedere sia al sito dell'associazione, che ha più di 46 in tutta Italia, da cui poi si può arrivare alle nostre. Questa qualificazione, insieme alla qualificazione Nord, sono due tappe che provvedono a stilare una classifica, un ranking, i cui migliori poi accederanno agli assoluti, che è una gara che si farà a maggio in provincia di Siena. Grazie.